Sbagliato, lo dico con grande tranquillità, perché nel momento mettiamo mano a una riforma, di alcune cose di questa riforma non ne viene parlato, io mi occupo di lavoro, in commissione lavoro, del fatto che per la prima volta si guarda anche all'alternanza scuola-lavoro, cose innovative di cui si è parlato per anni. Quindi lei dice, lei però dice che quando abbiamo sbagliato si deve capire che abbiamo fatto errori di comunicazione, successivamente, mettiamo risorse, dico immediatamente, mettiamo risorse tanto che alle scuole, ad ogni istituto andranno più 23 mila euro l'anno per gli insegnanti, più 8 mila e 800 euro l'anno per le questioni di iniziativa e la percezione è questa, è evidente che abbiamo sbagliato qualcosa. Io non penso che dovessimo rallentare adesso, io penso che però forse un approccio diverso, non nel merito delle questioni, ma nel metodo anche di come sono state trattate, sono state accompagnate nel mondo della scuola, ma anche sull'esterno, forse su quel piano lì qualche attenzione in più doveva essere.